Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Cartellino Rosa Show, siamo tornati qui negli studi di Milano News per parlare del calcio femminile meneghino e nei dintorni della città metropolitana. Quest'oggi, come l'altra volta non sono da solo, abbiamo un super ospite, oggi con me c'è Biagio Privitere in arte, possiamo dire, vi apri i 58 come conosciuto sui social, quindi lo salutiamo subito, adesso è qui in collegamento con noi da Roma. Ciao Biagio, come stai? Ciao Mattia, ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene, com'è a Roma il tempo? Il tempo è stato un po' alterno in questi giorni, in questo momento non sta piovendo però, tempo alterno. Senti, io per iniziare subito con la presentazione per chi non ti conosce, presentati da solo, come ti definiresti un tifoso, un appassionato, come ti definiresti al pubblico interista soprattutto nel tuo caso? Se devo scegliere una parola sicuramente è tifoso, proprio non c'è dubbio, sono un tifoso interista, tifosissimo interista, poi, e questo è fin da quando ero un bambino, poi nel tempo sono nati i social, la cosa mi ha appassionato, sono poi appassionato di fotografia, di video, quindi ho cominciato a frequentare i social, un certo numero di persone hanno trovato interessanti quello che facevo, quindi alcuni lo chiamano questi ruoli youtuber, altri lo chiamano influencer, ma in effetti sono un tifoso molto presente sui social. Che poi appunto non solo intermaschile ma anche femminile, infatti ci siamo visti di recente a Interlazio, partita vinta dalle ragazze di Guarino per 1-0, ma dal femminile quando ti sei approcciato, qual è stata la prima partita che hai visto magari allo stadio? Sì, guarda, infatti questo, se devo dire, sono molti i tifosi interisti ovviamente, sono molti gli influencer o youtuber gli interisti, però la cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è che in effetti io sono l'unico, perlomeno tra quelli abbastanza conosciuti, che segue praticamente nella stessa maniera il maschile e il femminile e ti rispondo subito sulla storia, se hai uno dei motivi per cui lo faccio, un'altra cosa che distingue il mio approccio ai social rispetto alla grande maggioranza degli altri, che io non monetizzo in nessuna maniera quello che faccio, probabilmente anche legato all'età, molti degli altri youtuber influenti sono giovani quindi fanno benissimo ad arrotondare e a trovare, io chiaramente sono in una fase diversa nella vita, ho la mia professione o il mio lavoro, quindi lo faccio assolutamente per passione, per amore dell'Inter e con zero interesse economico e uno dei motivi per cui nessuno segue le ragazze, perché chiaramente sono di meno che le seguono, ogni foto, video che metti di Interwomen ha meno visualizzazioni, meno like rispetto a quelle del maschile, quindi chi lo fa in qualche modo anche per interesse economico ovviamente sceglie solo il maschile, non è il mio caso, quindi cerco di essere dal 50%, quando è nata questa passione? È nata nel 2018, tre anni fa, quando FC Internazionale è entrata nel femminile, perché prima esisteva una squadra Inter Milano femminile di Elena Tagliabue, che era una squadra dilettantistica, che portava i colori dell'Inter, ma non era l'Inter, dopodiché l'Inter ha comprato, ha acquisito in pieno questa società quando ancora era in Serie B e da quel momento ho iniziato a seguirla, quell'anno era in Serie B, siamo stati l'unica tifoseria che ha seguito su tutti i campi più perduti della Serie B, siamo stati davvero in campi piccolini di provincia, è stato un anno magico, li abbiamo vinte 21 su 22, abbiamo pareggiato quell'altra, siamo stati promossi in Serie A con il record di punti, si è creato davvero un rapporto magico con quella squadra e le cose stanno continuando fino adesso. Assolutamente, poi torneremo su quella nata fantastica, ha fatto bene anche raccontare un po' di storia dell'Inter di quando è nata, quindi lo segui proprio dall'inizio, ma adesso vediamo un po' cosa è successo anche questo weekend e anche un po' prima, perché la scuola settimana si è giocata la prima partita delle qualificazioni ai mondiali del 2023 in Australia e l'Italia di Milano Bertolini è scesa in campo contro la Moldova e ha vinto 3-0. Adesso andiamo subito a vedere il risultato nelle specifiche, dove tra l'altro è arrivata una rete, a noi ci interessa di Milano News, la rete di Valentina Giacinti, oltre alle due di Cristiana Girelli, la bomber della Juventus, quindi un risultato ottimo anche se un'Italia abbastanza sprecona, andiamo anche a vedere magari la formazione con cui abbiamo giocato contro gli avversari in questo 4-3-3, a noi ci interessano appunto, come già detto, le rossonere, abbiamo il nostro portiere del Milan, Laura Giuliani, Bergamaschi terzini, poi c'è Giacinti appunto in attacco che ha pure segnato in panchina le due interiste convocate Marinelli e Francesca Durante e Gloria Marinelli. Esattamente, poi tra l'altro andiamo a vedere anche nelle giovanili, che comunque ce ne sono un po' di nero-azzurre, vediamo anche la classifica a questo punto d'Italia dopo la prima giornata, a pari punti con Svizzera e Romania, tre a testa, si è giocata solo una partita, quindi è ancora tutto, ancora da costruire per la Nazionale di Milano Bertolini e poi andiamo a vedere poi quella che sarà la partita poi di martedì, di domani alle 5 e mezza, sfideremo la Croazia in trasferta per cercare di conquistare altri tre punti fondamentali per la qualificazione ai mondiali. Io torno da te, adesso Biagio, che prima appunto mi hai detto che hai seguito un po' la partita, soprattutto nel primo tempo dove ci sono stati tra l'altro i gol, come ti è sembrata la Nazionale di Milano Bertolini? Purtroppo non sono scese in campo appunto le due nero azzurre? Sì, era una partita molto facile, era una partita molto facile, proprio la differenza tra le due squadre enormi, si è giocato a un campo, è stato un tiro a segno per l'Italia, però molta imprecisione, era una partita che si doveva vincere ancora più nettamente, doveva essere una goleada, 3 a 0 già dopo il primo tempo, non aver segnato nessun gol nel secondo, non penso che Milena sia rimasta particolarmente contenta, quindi si poteva fare di più, però era importante vincere, non è un girone proibitivo per l'Italia, chiaramente la missione è andare assolutamente ai mondiali, si può fare, andiamo a vincere domani in trasferta, penso che il cammino… tra l'altro sappiamo che le partite di settembre talvolta si soffre, l'abbiamo visto pure la Nazionale di Mancini, ha avuto un pareggio di troppo, quindi va bene così. Assolutamente, poi abbiamo già citato Marinelli Durante che non scese in campo contro la Moldova, vedremo se magari avranno qualche minutaggio contro la Croazza, soprattutto Marinelli, un po' più difficile per Durante che fa il portiere, però non solo Nazionale maggiore, perché anche l'Under-19 ha giocato una mica che vuole con l'Austria e qui i nerazzurri esultano perché capitano Passeri e il gol decisivo 4-3 contro l'Austria di Gaglialonati ha segnato il gol decisivo e avevamo pure in squadra Anita Kokis, abbiamo il portiere di riserva che non ha giocato, ma forse giocherà la prossima, Astri Girardi che è una delle nostre beniamine, quattro ragazze a cui vogliamo molto bene e seriamente promettenti, due di loro sono già nella rosa di prima squadra, Astrid praticamente il secondo portiere dietro Francesca Durante, Angela Passeri ha fatto il suo esordio a 17 anni e 53 giorni nell'ultima partita di campionato, vinta nettamente a Empoli, quindi ragazze molto molto promettenti, era convocata pure Matilde Pavan, un'altra delle nostre ragazze da grandissimo grandissime per ospettive future, per un piccolo infortunio ha dovuto rinunciare alla convocazione, ma siamo molto ottimisti, abbiamo un settore giovanile dell'Inter, ormai storicamente molto forte, che può essere un buon serbatoio in futuro anche per la prima squadra. Assolutamente, poi tu mi hai già citato le partite di campionato, adesso magari andiamo a vedere la programmazione della prossima giornata, che si tornerà a giocare anche sui campi della Serie A, eccola qui, abbiamo Juventus ed Empoli questo sabato alle 12.30, alle 14.30 invece è la Svero-Napoli, scontro salvezza, Milan-Sassuolo in diretta pure sulla 7 in chiaro, partita che non riteniamo molto, passiamo appunto a domenica che ci interessa quest'oggi soprattutto, Lazio-Fiorentina, Inter-Roma e Sampdoria-Pomigliano. Biagio, Inter-Roma ci dovrà dare delle risposte da entrambe le parti, la Roma vuole essere l'anti-Juve, l'Inter finalmente si gioca il suo primo big match. Per sabato tra l'altro faccio gli auguri al Napoli femminile, a cui pure mi lega simpatia perché ci gioca Eleonora Goldoni, che ha giocato con noi, che è una cara amica e che tra l'altro è proprio interista dalla nascita ed è iscritta al mio stesso Inter-Club, io sono dell'Inter-Club Beli di Roma e siamo orati di avere Eleonora Goldoni come una delle nostre iscritti, quindi bocca al lupo al Napoli di Eleonora che lotta per la salvezza, noi giochiamo come hai detto domenica, per me sarà un weekend milanese, io abito a Roma ma verrò al Milano per il weekend, sabato il maschile Inter-Atalanta e domenica il Inter-Roma, tra l'altro sto cercando di usare moltissimi i miei social per convincere quanti più tifosi del maschile, un po' la missione che mi sono dato sui miei canali, invitare i tifosi del maschile almeno a venire a vedere, in genere chi segue il mio consiglio poi rimane, perché rimane affascinato dal bellissimo mondo del femminile. Inter-Roma femminile è una partita importantissima per noi, abbiamo vinto 3 su 3, la Roma 3 su 3, due squadre a punteggio pieno, le tre squadre con cui abbiamo vinto sono un attimino più scarsette, diciamo, per noi sulla carta dell'Inter, la Roma è una delle possibili candidate per lo scudetto, quindi è il momento della verità, per far vedere il potenziale di quest'Inter di Rita Guarino, noi siamo molto ottimisti, siamo contentissimi che sia arrivata Rita Guarino, ma Inter-Roma è il momento della verità, quindi spero che tanti tifosi interisti seguiranno il mio esempio, verranno al Breda domenica alle 14.30 per sostenere le nostre ragazze. Esatto, perché crediamolo, l'Inter ha riaperto lo stadio, non tutti i club di Serie A femminile l'hanno fatto, perché a volte gli impianti non lo permettono, fortunatamente l'Inter giocando al Breda di San Giovanni può accogliere i suoi tifosi, speriamo davvero che riempiano tutta la tribuna, non solo, adesso andiamo a vedere un attimo appunto nel particolare le partite, partendo appunto un attimo dal Milan-Sassuolo, andiamo un attimo a vedere le statistiche di questa partita, che comunque è un altro big match di giornata, sono le altre due squadre a punteggio pieno con il Milan che arriva da una vittoria per 8-1 contro la Lazio, mentre il Sassuolo, davvero anche lui sta vincendo tutte le partite, l'ultima 2-0 contro la neonata Sampdoria, ma andiamo a vedere anche le statistiche dell'Inter, Biagio contro la Roma, precedenti sicuramente più a favore delle giallorosse, però qua vediamo come l'Inter ha subito un gol in meno, ne ha segnato pure uno in meno, però le statistiche sono molto simili delle due squadre e come hai detto tu appunto sarà una partita sicuramente importantissima per le Nerazzurre, secondo te chi potrebbe deciderla sia da una parte che dall'altra? Beh sicuramente guarda, loro hanno un potenziale molto molto forte, hanno tante giocatrici che possono essere decisive, io spero che sia la nostra gloria, gloria ha cominciato benissimo il campionato con tre partite e tre gol, ricordo che noi appunto la seguiamo dall'anno dell'invincibile, tu capocannoniere, 26 gol se ricordo bene, davvero è una macchina da gol, nei due anni scorsi è stata sempre la capocannoniere dell'Inter, però ha un po' sofferto, fortunatamente c'è stato un cambio di guida tecnica che ritengo fosse assolutamente indispensabile da Tiglio Sorbi a Rita Guarino e Rita sta usando, sta riuscendo a sfruttare al meglio il potenziale, lasciami dire qualcosa, tu hai accennato molto bene che l'Inter sta giocando a porte aperte, sono molto orgoglioso di questo e voglio ringraziare la dottoressa Ilaria Pasqui, responsabile di Inter femminile per aver fatto questa scelta, il nostro campo era interello, il campo ufficiale che avevamo comunicato alla federazione è interello, ma interello non avrebbe permesso di riaprire con le modalità Covid, quindi l'Inter di proposito ha cambiato, ha dato al Breda per giocare a porte aperte con i tifosi, se pensi che il Milan ha giocato a porte chiuse, la Juve campioni in carica, 4 anni giochi a porte chiuse, per me sono scelte assurde per uno sport come il calcio femminile che deve avvicinare i tifosi, grandi squadre che giochino a porte chiuse per me è assurdo, sono orgoglioso e contento che l'Inter abbia fatto una scelta diversa e spero che giornata dopo giornata sempre più tifosi vorranno avvicinarsi a questo bellissimo mondo. Assolutamente, poi l'abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, gli stadi vuoti hanno anche un po' di tristezza, non sembra neanche vero calcio, invece appunto mi ricordo la partita contro la Lazio dove rincurva con altri ragazzi, quei tamburi, cori ed è servito anche le ragazze probabilmente per arrivare anche a conquistare quella vittoria di misura, comunque non facilissima contro la Lazio di Carolina Morace, ma adesso noi andiamo a vedere anche un attimo il campionato cadetto perché la nostra cara Prosesto purtroppo non ha giocato perché è stata rinviata alla gara contro la Pink Bari, adesso andiamo a vedere subito i risultati di questa seconda giornata con appunto la Prosesto che non ha potuto giocare contro la Pink Bari perché è stata rinviata per l'assenza di tante nazionali nella squadra pugliese, intanto qua ci arriva direttamente la grafica del prossimo match delle Lombarde che affronteranno domenica 26 settembre all'ore 15 e il Cesena in trasferta, Cesena che è una delle squadre che punta assolutamente a conquistare la promozione in Serie A quindi non sarà facile per la squadra di San Giovanni, mentre qua vediamo appunto i risultati di questa giornata di Serie B con il Palermo che cade in casa con il Corte Franca per 2-0, la Torres pure perde la propria gara casalinga di misura contro il Brescia, mentre vince 2-1 il Ravenna e il derby Romagnolo contro il San Marino e infine il pareggio a reti bianche tra Cittadella e Chievo-Verona, andiamo anche a vedere un attimo la classifica di Serie B con appunto in questo momento Corte Franca, Brescia, Ravenna e Chievo a 4 punti, però appunto 3 partite rinviate come si vede dalla grafica, quindi è ancora tutto ancora da capire in questo campionato che sarà sicuramente molto equilibrato, mentre completiamo un attimo il quadro della prossima giornata, abbiamo detto la Pro Sesto trasferta a Cesena, poi ci sarà il Chievo con la Sassari-Torres, Cittadella-Ravenna, Como-Brescia, Derby-Lombardo, Pinkbari-Corte Franca, San Marino-Roma e infine Tavagnacco-Palermo. Viaggio, prima ne parlavamo un attimo fuori onda della tua amicizia con il Como, perché quest'anno è arrivato in panchina della Fuente che è stato l'allenatore degli Invincibili che ha conquistato la promozione. Io ho creato questa community che si chiama Team Bapri, sono tutti coloro che condividono il mio modo di vivere il calcio basato sulla passione, il tifo pulito, il rispetto degli calcio femminile e quindi seguiamo anche la Serie B dove molte giocatrici che hanno militato nell'Inter vanno nelle varie squadre e quindi le sosteniamo e seguiamo con simpatia. Quest'anno abbiamo fatto una scelta, la nostra squadra preferita senza alcun dubbio sarà il Como, nel Como abbiamo molti legami a partire dall'allenatore, l'allenatore Sebastian della Fuente che è stato allenatore delle famose Invincibili dell'anno travolgente della cavalcata promozione dalla Serie B alla Serie A con vittori vittorie e un pareggio. Abbiamo avuto modo di conoscerlo personalmente, è una persona che rispetto tantissimo e quindi poi negli anni due successivi lui è stato allenatore della primavera e quindi abbiamo avuto ancora modo di seguirli e avere contatti con la primavera femminile, quest'anno ha deciso di cambiare e andare a Como e con lui ci saranno tre giocatrici che facevano parte dell'Inter primavera che vinse lo Scudetto nel 2019 con noi del Team Bapri presente a Coverciano per sostenerle, ci sono Lucia Pastrengge, Elisa Mariani e Elisa Carravetta, sono tre ragazze secondo me dal grande potenziale che seguiamo con tanto affetto e simpatia quindi io auguro a Mister Seba come lo chiamiamo, a Lucia, Elisa e anche al dirigente Miro Kesci che è venuto dall'Inter, passato dall'Inter al Como di fare una bella annata. Ho visto tra l'altro Lucia Pastrengge proprio alla partita dell'Inter al Breda, gli ho fatto gli auguri e abbiamo un patto che se il Como sarà promossa la sua maglia con autografo andrà subito a Biavri. Spero che potrà mantenere questa promessa perché vorrei dire che il Como andrà in Serie A. Staremo a vedere, tra l'altro appunto tu hai citato il Scudetto della primavera perché appunto l'anno degli invincibili promozioni in Serie A, Scudetto primavera ma anche Scudetto Under 17 che è stata quella, hai visto solo finali dove hai potuto gioire? Sì è stato molto bello, tra l'altro quell'anno noi abbiamo visto l'Under 17 l'anno precedente, quell'anno andammo in finale ma l'abbiamo persa ai rigori ma abbiamo la nostra Astrid che ha già vinto con l'Inter tre Scudetti perché lei l'ha vinto con l'Under 15, con l'Under 17 e con l'Under 19 quindi Astrid era segno del destino, io siamo molto contenti Francesca Durante che sta facendo molto bene però in prospettiva futura davvero noi speriamo che un giorno Astrid possa diventare portiera della nazionale, portiere dell'Inter, una ragazza che seguiamo da quando aveva 15 anni ha un potenziale enorme e quindi speriamo molto bene. Assolutamente, poi è una classe 2003 se non sbaglio quindi forse... È giovanissima, è giovanissima appunto 18 anni ma già ha un'esperienza, è già esordito in Serie A l'anno scorso nella parte finale del campionato Sorbi l'ha addirittura messa a titolare, nonostante ci fossero Marchitelli e Roberta Aprile, è stata titolare ovviamente per tre anni nella primavera, è davvero secondo noi una ragazza predestinata a un grande grande futuro, adesso sta facendo il portiere di riserva ed è giusto dietro un portiere di esperienza come Francesca ma so che Rita Guaino ha tanta fiducia in lei e quindi penso che nel futuro ci saranno occasioni anche per Astrid. Assolutamente, poi appunto ha vinto già tutti i Scudetti, 15, 17, adesso gli manca quello più importante. Esatto, abbiamo preso Rita anche per quello, quindi speriamo che si ripeta l'esperienza di Conte che venendo dopo la Juve dove ha fatto un filotto, ne ha vinti tre lui con la Juve e poi ha vinto con noi, Rita ne ha vinti quattro con la Juve, abbiamo iniziato bene, certo non ci aspettiamo che il primo anno sia quello dello Scudetto, sarebbe chiedere troppo, però ci auguriamo che inizi un percorso che metta Inter Women nel gruppo delle grandi del campionato, poi magari ci vorrà un anno, due anni, tre anni per lo Scudetto, però l'importante è entrare in quel giro e da quello che abbiamo visto la strada intraprese è quella giusta, ci vorrà pazienza, dedizione ma l'inizio è molto buono. Tanto andiamo a vedere anche i risultati della Coppa Italia di Serie C perché si è giocata la seconda giornata del Gironi che ha un interesse, il 14, dove sono presenti Realmeda e Fiamma Monza, adesso aprirà subito la nostra grafica con il Realmeda che vince in trasferta con l'Aurobica 4-3 conquistando i suoi primi tre punti e il Fiamma Monza vince un po' lo sconto diretto che sembrava per la vittoria del Gironi, colpa via 1-0 di misura, gol di Pirovano che fa salire a quota 6 il Fiamma Monza in testa classifica, adesso mancherà solo una giornata il prossimo weekend dove appunto il Fiamma Monza anche solo con un pareggio passerebbe alla fase successiva. Biagio Coppa Italia sì di Serie C però inizierà poi anche quella di Serie A dove c'è anche l'Inter che è stata sorfiggiata proprio con la Pro Sesto e San Marino. Sesto e con San Marino, stiamo già programmando, l'ultima giornata dovrebbe essere il 19 dicembre, San Marino-Inter e stiamo già programmando di essere presenti con i nostri striscioni, tamburo, bandiere, megafono per sostenere le nostre ragazze, speriamo per il passaggio del turno. Ma la Coppa Italia, lo scudetto sicuramente è difficilissimo nel primo anno, la Coppa Italia però con gli scontri diretti è un torneo un po' insidioso per chiunque, l'anno scorso l'Iventus è uscita in semifinale con la Roma. L'anno scorso siamo arrivati in semifinale, l'anno scorso l'uniche soddisfazioni le abbiamo prese in Coppa Italia dove siamo arrivati in semifinale, abbiamo eliminato la Fiorentina, abbiamo fatto soffrire il Milan che ne ha persa una e poi ha vinto il ritorno, quindi l'anno scorso abbiamo fatto molto bene in Coppa Italia, speriamo di ripeterci quest'anno, ripeto noi saremo all'ultima partita di Girone e poi vedremo negli scontri diretti successivi. Assolutamente, poi appunto l'anno scorso la prima storica vittoria nel derby dell'Inter femminile, prima aveva solo perso. E' stato il momento più bello della scorsa stagione, forse l'unico. E chissà, poi quest'anno sarà sicuramente molto agguerrita, con due squadre molto forti, adesso io vado un attimo a leggere i risultati della prima giornata di eccellenza Lombarda, perché è partita anche quest'altra categoria, quindi ci sono delle squadre che ci interessano a noi nel territorio qua milanese, con il Cesano Boscone che ha perso in casa 3-1 con la Doverese, il 3-team Brescia ha vinto 4-0 sul Tabiago, doppietta di Pedemonti e Ronca, il Crema perde in casa 5-6 con il Gavirate, decisiva la tripletta di Magrini per le ospiti, mentre il Mantua perde in casa 7-1 con la Football León, tripletta di Arianna Spagna. Lumezzane-Monterosso 7-1 e infine il Vittuone batte tra due e il Minerva, decisiva la doppiata di Barbugliani, riposano infine Polisportiva-Oratorio e il Sedriano. Io torno da te, vi apri, adesso siamo un po' verso il finale, voglio chiederti comunque se tu hai un passato da calciatore, magari proprio in queste categorie che spesso magari mancano di visibilità, anche se alla fine è sempre calcio e c'è sempre grande spettacolo. No, io non ho mai giocato a livello serio, diciamo, ma tra amici o negli scouting, sono stato tantissimi anni, sono stato papà di un giocatore, perché mio figlio ha giocato come portiere, anche lui a livello dilettantistico, però in squadre, sia in Italia che in Inghilteria, lui ha vissuto in varie nazioni e quando vivevamo in Inghilterra, Francesco, ero lì a quell'età aveva tra i 15 e i 17 anni, giocava in una squadra inglese ed è un bellissimo ricordo, lui come portiere, ogni weekend andare su diversi campi, chiaramente tutti in erbe in Inghilterra, anche con la pioggia che c'è, quindi è un bel ricordo di quegli anni. Io ero attaccante, ma molto scarso. Però almeno vi potevate allenare insieme, lui in porta e lo mettevi… Nel giardino di casa lo facevamo, nel giardino avevamo una villetta con il giardino, avevamo messo una porta e quindi si allenava lì. Senti, spesso adesso sta arrivando il professionismo nel calcio femminile, però serve anche tanta visibilità al movimento, se no solo il professionismo da solo, lì certo non può cambiare le cose. Adesso è arrivata comunque la Serie A sulla 7 in chiaro. Volevo chiederti appunto riguardo il discorso visibilità, quanto è importante vedere comunque le partite sul digitale terrestre, così davvero a disposizione di tutti. Sì, secondo me è importante, quindi ha preso molto l'iniziativa della 7. C'è stato un momento di picco con i mondiali in Francia, quando l'Italia andò bene e ci fu entusiasmo. Dopo quel momento poi la visibilità è diminuita. Io penso che ci debba essere uno sforzo da parte di tutte le squadre. Ripeto, nel mio piccolo, è quello che cerco di fare invitando per esempio gli interclub ad aumentare gli interclub che vengono sia al maschile che al femminile con i loro striscioni. Il ruolo della televisione è importante. Il professionismo di per sé, se non si creano le condizioni economiche di visibilità, rischia di non essere sostenibile. Lo vediamo nel maschile dove si è raggiunto un eccesso. Ci sono cifre e alla fine è importante la sostenibilità economica di tutto. Però il punto di partenza, come si parla di professionismo si parla di grandi cifre. Io non penso, avendo parlato con diverse giocatrici tra l'altro, non si tratta tanto di pensare di replicare le cifre del maschile, che non sarebbe realistico fare in questa situazione, ma iniziare da diritti, oggi ci sono giocatrici che se vanno in maternità perdono tutto, oggi vivono con un rimborso, ma in maternità non c'è l'assicurazione contro gli infortuni, quindi se ti fai male rischi di restare senza squadra e senza niente. Quindi penso che il punto di partenza sia davvero assicurare una serie di diritti sostenuti da un contratto nazionale per le giocatrici. Poi il livello degli emonumenti sarà legato a quando il movimento cresce, visibilità, numero di tifosi e sponsor che entrano nel calcio, ma quello ci vorrà del tempo. Assolutamente, come hai detto tu, il professionismo dovrà essere accompagnato al meglio, proprio dando visibilità anche nel nostro piccolo, con questa trasmissione, con i tuoi video. Io ho preso molto anche il cartellino rosa, questo tipo di trasmissioni. Fate bene, anche se può essere all'inizio un prodotto di nicchia, ma scegliere una strada e crescere in quella, piuttosto che seguire la strada percorsa da tutti, molto spesso in maniera ripetitiva. È lo stesso come il discorso degli youtuber, ci sono migliaia di youtuber che fanno solo maschile, molto spesso tutti nella stessa maniera, non c'è nessuno che segue il femminile perché è seguito poco, è vero, ma bisogna iniziare e poi pian piano, pian piano allargare questa torta. Io sono fiducioso che si possa fare, io farò del mio meglio, sono sicuro che il vostro contributo sarà importante. Senti, una propria domanda sui social, l'Inter in questo momento ha un profilo condiviso con maschile e femminile, tu ne creeresti uno a parte solo per il femminile, adesso c'è solo la pagina Twitter. Allora, dipende dalle piattaformi, su Twitter lo hanno diverso, hanno Inter e Interwomen e lo fanno abbastanza bene, quindi utilizzano abbastanza il femminile con l'intervista alle giocatrici. Io ho parlato tra l'altro con il direttore dei social dell'Inter e la mia raccomandazione è stata di fare lo stesso su Instagram, so che hanno un programma di farlo, chiaramente questo richiede risorse e organizzazioni, quindi per il momento preferiscono concentrarsi su Twitter, ma secondo me la strada giusta sarebbe ripetere su Instagram quello che fanno su Twitter, avere un profilo dedicato a Interwomen che man mano potrebbe crescere e avere il suo seguito, altrimenti nel profilo unico rispiono di essere coperte dal maschile. Assolutamente, adesso noi siamo in chiusura, io intanto ti ringrazio per essere venuto qui con noi, per esserti collegato e a questo punto ci vediamo a Inter Roma. Assolutamente, ci vediamo a Inter Roma, io vengo già sabato, speriamo bene con Inter Atalanta di continuare, dopo domani con la Fiorentina e poi questa Inter, ripeto, io mi auguro, questa settimana sarà di grande battagio pubblicitario sui miei canali, io spero di portare, voglio citare tra l'altro in chiusura, perché davvero è un grosso merito, ci sono quattro Inter club in Italia che hanno preso l'impegno di avere il loro striscione a ogni partita di Inter Women, ovviamente il mio Inter club, Beli da Roma, nonostante sia Roma, un club della Calabria, Inter club Peppino Prisco, Montato Fugo, Inter club Firenze dalla Toscana, che tra l'altro ogni volta sono loro che portano il bandierone enorme che abbiamo allo stadio, e Brugherio dalle parti di Milano, quindi spero che molti Inter club seguiranno questo esempio, finora in tre partite, due in trasferte, una in casa, il nostro tifo è stato sempre superiore, addirittura Napoli, Napoli femminile, Inter femminile, il nostro tifo ha nettamente superato quello dei napoletani, lo stesso a Empoli, spero che sempre più questo aumenti, noi siamo l'Inter, c'è una base di tifosi enorme, se una parte di questa base mostrarsi interesse per il femminile, possiamo aiutare le nostre ragazze a creare un anno storico. Assolutamente, noi ricordiamo a questo punto l'appuntamento, sabato alle 14.30 giocherà il Milan contro il Sassuolo in diretta su Team Vision nella 7, l'Inter invece solo su Team Vision, domenica 26 sempre alle 14.30 e si potrà anche accedere allo stadio, lo ricordiamo, lo sottolineiamo più volte sperando davvero di vederlo pieno. Non ti sento bene, c'è un problema di connessione. Non mi senti bene? Adesso sì. Adesso, comunque stavo ricordando appunto l'appuntamento di questo weekend, io ti saluto e ti ringrazio ancora, Viaggio, e saluto anche tutti quelli che ci hanno seguito per questa trasmissione, questa seconda puntata di Cartina Rosa Show e ovviamente ringrazio anche gli studi di Milano News che ci ospitano. Un saluto a tutti ed un grosso in bocca al lupo per il proseguo del vostro canale. Grazie mille. Allora non mi resta che augurarvi a tutti quanti una buona serata e ci vediamo lunedì prossimo sempre alle ore 19.